C'è stata l'ultima polemica con i rifiuti da Roma, c'è Risciori che ha annunciato ai 420 che assolutamente da fuori gli rifiuti non potranno arrivare perché già abbiamo tanti problemi noi giustamente. Ci ha rimesso il carico anche Ricci che si crede ormai il presidente della provincia dicendo che nella provincia di Pesaro non arriveranno sicuramente i rifiuti da Roma perché secondo lui giustamente gestire certe cose necessita di una certa responsabilità amministrativa. Non si può fare l'ambientalista con le discariche degli altri. Tutte queste frasi più o meno di effetto. L'unica voce che manca è quella di Seri. Ci siamo un po' stupiti da una parte ma dall'altra no perché leggendo i dati che ci sono pervenuti recentemente nella discarica di Monteschiantello di Fano in realtà è da tanti anni che i rifiuti da fuori regione stanno arrivando. Vi leggo solo un dato. Dal 2014 per i rifiuti speciali nella nostra discarica siamo passati da zero nel 2014 fortunatamente a 8384 nel 2015 e 8385 nel 2016. Stiamo parlando di tonnellate, 8385 tonnellate di rifiuti speciali e ad ultimo nel 2017, l'ultimo dato che abbiamo, siamo saltati a 9940 tonnellate di rifiuti speciali. All'incirca da fuori regione arrivano quasi un terzo di tutto quello, perlomeno nell'ultimo anno che abbiamo osservato, un terzo di tutto quello che viene riversato nella discarica di Monteschiantello. È un'enormità. Insomma, alle parole di Ceriscioli e di Ricci possiamo dire che forse è meglio che si studino i dati che loro stessi dovrebbero osservare e gestire. E facciamo un invito anche a Sieri a smetterla veramente di mantenere questo trend all'interno della nostra discarica perché questa discarica è l'ultima che abbiamo quasi a disposizione ormai. Ma tutto questo perché? Perché in pratica adesso in discarica arriva meno rifiuto solido urbano perché c'è molta più differenziazione. E quindi per fare cassa, per guadagnare i soldi perduti, facciamo arrivare rifiuti da fuori regione e da fuori provincia. Ecco, c'è un'alternativa in realtà. Come si può guadagnare a questo punto? Aumentando in realtà la raccolta differenziata e vendendo ancora meglio, con maggior qualità, la materia prima-seconda, cosiddetta, cioè quello che viene poi reciclato dalla differenziazione. Ecco, questa è la vera via che Fano deve percorrere. Noi ci impegneremo nei prossimi mesi, nei prossimi anni perché veramente questo trend venga invertito e si passi veramente a una gestione virtuosa della nostra discarica, ma quindi anche una gestione virtuosa dei nostri rifiuti.